Nel Vangelo di oggi il Signore ci parla di un popolo, un popolo che è incapace di accogliere e di custodire la vigna. Che cos'è la vigna di cui tanto si parla nella scrittura? La vigna altro non è che il regno di Dio, la vigna altro non è che l'immensità della relazione che Dio ha con noi. La domanda che oggi siamo chiamati a porci è questa, siamo custodi della vigna o siamo distruttori di questa vigna? A noi spetta il compito di custodire la vigna, di custodire la relazione con il Signore, di fare come si farebbe con una vigna, di piantare, di zapparci intorno, di innaffiare. Dobbiamo ben capire a che punto è la nostra relazione con il Signore o se siamo diventati usurpatori e distruttori di questa vigna. A voi la risposta. Grazie e buona giornata.